Buongiorno da Velturno sopra Bressanone. Ecco Velturno, adesso si sale e andiamo a cima del cane. E' un bel prato qua e che bella cementata! Di solito quando è cementata diventa bella la strada giusto? Bellissima! Buongiorno signore, va bene? Dobbiamo andare là, si inizia a vedere la cima. E qui è bellissimo! C'è la valle giù? Meravigliosa! Qui c'è la plose, quelle montagne lì dovrebbero essere la plose, qui dovrebbe essere se lì c'è chiusa, quello lì dovrebbe essere dalle parti del Renon, quindi di dietro c'è Bolzano e sotto di qua c'è Bressanone. Ciao Belli! Quanto siete belli! è meraviglia! Un pochino di cammino, un po' di passeggiata e ci siamo! Com'è? Tutta ciclabile no? Ciclabile! Si può tutto in salita! Wow! Ma che meraviglia! All'è Robby! All'è Robby! Questo si chiama Radler Hood, si chiama. Ma ora ci vediamo la Radler! Radler al litri! Questo è il terzo che sale e porta le persone al lago. In giro! Il terzo! Mi fa impressione! Non è che faccio tranquillo! No ma ciò va! Piò ha un po' scena! Sono ripartiti! Ciò va! Ah! Decisamente che vista! E' molto bello! Adesso vado a vedere! Ohhhh che bello! Qua è tutto il lago Il tempo è un po' così Ma c'è la sua atmosfera anche così 5 minuti scarsi Eccoci Sulla croce di cima a rodella, se non mi sbaglio Ah, figo Grande Roby Non cadere tu, eh Ah, c'è l'episodio Piedi delle montagne E quella non si vede Piedi delle montagne E quella non si vede Piedi delle montagne Bella sta cresta Mi sa che è di qua, eh Come? È di qua il sentiero Dove sono io? Non l'ho incazzato No Ok 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 Roby Era meglio sopra, eh È meglio anche di qua, secondo me E mi sa che è di qua, no? C'è la salita C'è la salita C'è che è buco qua Sì Che spettacolo qui C'è la salita 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 Grazie a tutti. E' da muoversi tanto sulla bici. Penso che qualcuno si offenda. Oh, la marmotta. Ciao, marmotta. Come corre? Come fischia. Aspetta, sto prendendo belle mazzate con la frontina. Siamo arrivati in Scozia, dove c'è il muro. Dove è in Scozia che ci sono tutti i muri così? Siamo arrivati all'isola d'Elba. E anche a Corsica. Anche in Corsica. Siamo dei corsari, signori. Andiamo esplorando. Sì, sì, è bello. Comunque è bello. Guarda che figata qua. Ma siamo tornati a fare portage. Ci eravamo stufati, l'alice, se abbiamo fatto... Mi ha detto che paga la riscesa. Mi piace le bici di spalla. Ecco le odre. Anche adesso si scende. Anche adesso si scende. Ah, che bello qua. Ah, ho. Guarda questi gradoni con la fronte mi hanno spaccato. Dovevi prendere i gradoni. Li ho presi con la fronte io. Vai, vai, vai. Non si lascio a frenare. Allora, allora. Allora, allora. Vigo. Bravo. Mamma mia. No, sono belli grandi. Sono belli grandi? I gradoni devi... Sì, sono troppo lenti. Devi andare più velozzi. Li faccio a tuono con la fronte. Non vedo cosa possa andare storto. Vediamo come sono questi gradoni. Eh, sì, era un po' stronti la scatenata. Oh, cacchio, questa grande robbie. C'è un po' avanti, va. Sì, è un po' avanti. Vedete, va bene? Sì, va bene? Sì, va bene. Sì, va bene. Vedete, va bene? Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, va bene. È un po' avanti. Si è to mesmo. c'è proprio la linea più qui l'ho preso dobbiamo abbassare tanto la testa anche troppo non so sono arrivato quassù che faccio da largo ma di qua c'era la curvetta sopra finiti sentierini allora per oggi basta adesso andiamo a farci fare le cazziate dalle mogli e compagni ottimo è meglio farci fare qualcosa altro dalle mogli eh no eh sì vediamo perché viene perché viene sono i c'è fuori